dalla parte della libertà la resistenza in italia e nel mondo l'artista giuliana baldoni partecipa a questa esposizione di arte contemporanea con un'opera intitolata la libertà è una cosa seria si tratta di un acrilico con vino rosso in questo dipinto l'artista ha voluto sottolineare l'importanza della parola libertà e quanto purtroppo ai giorni nostri stia perdendo il suo significato più profondo la libertà conquistata con il sangue di giovani vite sacrificate in nome di un futuro migliore il grande dolore di madri padri di affetti stroncati lo strazio nel cuore nel sapere che i propri cari non avrebbero più fatto ritorno sogni e speranze strappati da guerre disumane in nome della libertà ora la bandiera simbolo di questa conquistata condizione si sente ferita e scioglie il tricolore nel rigagnolo d'acqua di una vecchia fontana che anch'essa ha visto passare sotto la sua cannella miseria e povertà grazie a tutti